E ora passiamo ai body e ai pigiami in generale che uso per l'estate Che come potete vedere forse sono davvero tanti Quindi andiamo subito a scoprire Allora il primo che avete già visto in un video e che è ancora aperto perché l'ho tolto da poco Cioè proprio prima di fare il video E' questo che ha B12 mesi, molto carino Come vedete c'ha questo porcione, penso A maniche lunghe E l'altro body a maniche lunghe che ho, che avete visto sempre in quel video E' questo Che è diverso perché è bianco o panna diciamo Sembra maniche lunghe, chiavi 12 mesi Ed è molto carino Questi li uso nella mezza stagione come sotto o anche come pigiamini ma è più raro E ora passiamo ai body smanicati O molto leggeri che uso come pigiama o come sotto in realtà Allora partiamo con questo che era in un set Qui c'è un pelucchio Allora vediamo No non c'è scritta la taglia però non importa L'abbiamo presi da Primark Che vi dirà in un set di trei Con questo Con l'elefantino Questo con tutti gli elefantini Sono molto semplici, li stanno proprio perfetti questi Come pigiami e anche come sotto E l'ultimo era questo Tutto blu Molto carini Non vedo l'ora di rimetterglieli Perché sono davvero carini Quindi questi tre insieme Poi un altro davvero davvero molto carino E' questo Che mi piace un sacco 12 mesi, chiavi Guardate la fantasia E' davvero troppo troppo tenero Guardate Carinissimo Tra l'altro ho un sacco di foto postate sul mio Instagram Che trovate nella biografia Nella descrizione E tutti questi outfit sono indossati Nelle storie o nei post Nelle storie in evidenza Passiamo poi a questo bellissimo pezzo forte Che è della Disney 9 e 12 mesi Guardate Indovinate chi è? Forza so che lo sapete E' della Disney Ed è Buzz Lightyear Ho anche il ciuccino Abbinato In realtà due Perché è un set da due Poi passiamo a questo bellissimo pigiama Che io adoro Gli sta davvero davvero bene Perché ha anche le parti delle coscette coperte Ed è troppo carino Disney Primark 6-9 mesi È davvero davvero tenero In queste righe E c'è sempre il giallo Che a lui sta molto bene Infine abbiamo l'ultimo set da 3 Stavolta totalmente smanicati Quindi body canottiere Anche questi stanno davvero davvero bene Cambiamo la marca Che è Blue Kids Molto belli 9-12 mesi Uno Poi due Molto semplice Sempre insieme Azzurro Normale E poi con le stelline Queste sono proprio Prettamente estivi E anche L'ambito Della scatola Diciamo Dei pigiami Dei body È andata Ora passiamo alle cose estive Ecco anche la scatola Delle cose estive Che a mio parere Sono quelle più carine E che le stanno meglio E sono anche di più Perché sono più piccole Quindi piegate Occupano meno spazio Quindi iniziamo subito Ci sono anche sopra Due cappellini Allora Iniziamo con Due magliette Che sono Diciamo più mezza stagione Barra estate Quando non fa caldissimo Che sono Questa Che gli sta davvero bene Tra l'altro Ce n'è un'altra simile Che ha B12 mesi Molto carina Con questo tessuto Un po' striato E c'è una foto Molto molto carina Sul mio instagram Di qualche tempo fa Poi La maglietta Che avete visto Ovviamente Nel video Del comprianno Se non avete visto Quel video Guardate perché È davvero Troppo divertente Che è 9-12 mesi Fa gottino E poi passiamo Ai pezzi Forti Tranne l'ultima Che era quella Simile All'altra striata Sempre di chiabi Sempre 12 mesi Molto carina Questa Sta davvero bene E passiamo Appunto Ai pezzi forti Cioè alle magliette A maniche Anche qui Anche qui Guardate Quante Sono Sono davvero Tante Quindi Guardiamole insieme Allora Partiamo con questa maglietta Che gli sta Davvero Davvero Bene È Blue Kids 9-12 mesi Li sta Davvero Benissimo Io non pensavo Ma il grigio Li sta Davvero Bene Guardate Li sta D'altro Benissimo Poi Quest'altra Maglietta Elegante O più o meno Diciamo Si beh Elegante Si può considerare Elegante Fagottino 12-18 mesi Stavolta Infatti Sta leggermente Grande Ma comunque Bene Con questo tessuto Molto leggero Poi Maglietta Molto allegra Estiva Maniche corte Guardate Se non è un amore Vedo c'è Al contrario Sì Vabbè Sono uguali Praticamente Stavolta Primark 6-9 No 9 Non lo so È scritto un po' strano 9-12 credo Credo Molto carina Molto leggera Questa per andare al mare O in piscina È davvero stupenda E ovviamente Quando io faccio Questi riferimenti Di mare Piscina Montagna Vuol dire Che presto Avrete dei video Con mare Piscina Montagna E li diamo Ma anche Le altre Reborn Baby Quindi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per non perdere Questi bellissimi video Perché Ci divertiremo Insieme Poi passiamo A quest'altra maglietta Allora È un tessuto Che non amo Perché Il rigido Sono quelli Che sono colorati fuori Ma bianchini dentro Quindi E poi è Leggermente pesante Per l'estate Però Gli sta comunque Molto bene Ed è carina Tra i mark 6-9 mesi Molto carina Comunque Poi Altra maglietta Elegante Per modo di dire Questa è la maglietta Che Liam aveva Quando siamo andati Al lago Non ho fatto un video Ma ci sono davvero Tante foto carine Una delle quali È anche quella Che vedete Nella intro E gli sta Molto bene Fa gottino 9-12 mesi Davvero Troppo tenera È un blu nero Un blu scuro Altra maglietta Molto estiva Da mare e lago Ditemi se non ho ragione Se non sono troppo carine Ed è Primark Non vedo la taglia Però presumo Sia Sì Sempre 6-9 mesi Stavolta Gli sta molto bene E anche qui Io ne ho una simile Quindi ci abbiniamo Poi Altra Estiva Molto molto carina È questa Sempre Molto molto Mare Acqua Surf E Primark 6-9 mesi Davvero carina Molto leggera Poi Poi Abbiamo Quest'altra maglietta Che gli sta Molto bene Sempre di Primark Primark Ve lo consiglio davvero tanto Perché ha tante magliette Diverse Di buona qualità Perché è una buona qualità E costano davvero poco Righe Avete capito Che a me piacciono le righe Poi Quest'altra Magliettina Stavolta Di chiavi 12 mesi Anche questo Gli sta molto bene Però è un tessuto Diverso Cioè molto più morbido Più allargabile Poi abbiamo Sempre Primark Sempre 6-9 mesi Perché è la taglia 74 cm Questa Molto carina Totally wild Troppo tenera E infine Credo No In realtà no C'è ancora una Infine Gli animali Che passano Le moto Le macchine Chiunque Questa Che è davvero Davvero perfetta Su di lui Primark Sempre 6-9 mesi È davvero Davvero Bella E poi abbiamo Questa che non gli ho mai messo Perché l'ho presa In saldo Questo inverno Che è totalmente Smanicata Perché si può permettere Perché ha gli arti interi Ed è carina Fagottino 9-12 mesi Davvero tenera Passiamo ora Ai pantalancini Corti Allora Iniziamo con Questo Davvero tenero Anche questo Io abbino Di solito Con questa magliettina Perché è Troppo carino E ha Le foglie Chiamiamole foglie Blue Kids 9-12 mesi Davvero tenero Gli arrivano Circa al ginocchio Guardate Così Poi Abbiamo Quest'altro paio Che gli sta Davvero Davvero Bene Lo lascia Libero Di muoversi Diciamo Di posizionarsi Nelle varie posizioni Con questo dettaglino Credo fosse Primark Sì 6-9 mesi Davvero morbidi Sono leggermente Più corti Degli altri Poi abbiamo Questo set No Questo era unico Mi sembra Mi confondo Con l'altro Allora Questo Sempre Primark Sempre 6-9 mesi Abbiamo Questo piccolo dettaglio E' molto carino Lasciate Che vedo Di cash Pronti Guardate Oh mio dio Questi sono Davvero Davvero Bellissimi Di Blue Kids 12-18 Ma li stanno Davvero bene E abbinati Soprattutto Con Questa Maglietta Sono davvero Bellissimi E infine Pantaloni Cambiamo Genere Un po' Più Eleganti Che io Invece Abbino Con Questa Maglietta Sono questi Che sono arrivati Con lui Fagottino 9-12 mesi Questi li vanno Leggermente Piccoli Infatti L'ultimo Vottore Non si allaccia Mai Però Sono davvero Belli Hanno I puntini E infine In questa scatola Abbiamo I due Cappellini Che sono Davvero Davvero Teneri Quindi Se siete rimasti Fino a questo punto Nel video Andate subito Nei commenti A scrivere La parola Cappellini Mi raccomando Perché Ecco I due Cappellini Che gli stanno Ragazzi Stanno Davvero Benissimo C'è questo A pescatore Che avevamo preso Credo da H&M Non c'è più La taglia Mannaggia Però c'è questo ancora Gli stanno davvero Benissimo Da pescature E poi Classico Ma comunque Davvero Davvero Bellissimo Bianco Sempre Sempre con Il dettaglino Scuro Con La visiera Davvero Davvero Bello Poi Anche Regolabile E anche Qui H&M Se volete Sederlo È sempre 12-18 mesi Quindi mi raccomando Se siete arrivati a questo punto Del video Scrivete Cappellini O cappellino Come vi piace di più E per finire Passiamo Ai giubbini Di Liam Perché Lì ci sono anche Le sue Scarpine Da neve Ma ve le farò Vedere Nel prossimo Video Dove vi faccio vedere Tutte le scarpine Di Liam Anche indossate Oppure con qualche foto Quindi Rimanete Sintonizzati Allora Ora vi mostro Perché qui due Sono delle Reborn baby Ora vi mostro I loro I suoi giubbini Di Liam Partiamo Con il giubbino Invernale Che è un piumino E gli sta davvero Molto bene Ci sono anche qui Delle foto Su Instagram Se siete curiosi E appunto Le righe gialle Come vi dicevo prima Ed è di chi Abitaglia 12 mesi Gli sta davvero Davvero bene Troppo carino E abbinati Abbiamo Lo scaldacollo In pile Che si abbina Anche ai guantini In pile Molto tenero E il cappellino Questo di OVS E questo Di Credo sia OVS Comunque molto tenero Dentro è imbottito Poi abbiamo Questo impermeabile Che è fatto Davvero Davvero bene Perché dentro È così Nelle maniche Ma dentro Nel corpo È tutto In pile Giallo Imbottito Ed è di Primark Taglia 6-9 mesi Guardate com'è Bello Gli sta Leggermente Stretto Ma Ci può Può andare bene È davvero Molto bello Impermeabile È molto carino Il cappuccio C'è anche il cappuccio Ed è fatto dentro In In Stoffa Davvero molto bello Questo lo vedrei Molto bene In un acquario E infine Siete pronti Al pezzo Forte Eccolo qui Questa è La tuta Da neve Di Liam Ho delle foto Magari ve le metterò Qui da qualche parte Perché era davvero Bello Perché sì Siamo andati in montagna Con Liam Come vi ho detto prima E questa tuta È di Decathlon Ed era la taglia Leggermente grande Però non c'era Quella più piccola E comunque provandola Andava bene Il 18 mesi È davvero Davvero Fatta bene Tutta Imbottita Interamente Dentro È molto Molto carina Lì c'è anche Una taschina C'è il cappuccio Poi questo si chiude E diventa davvero Davvero bella È molto grande Ma Davvero Ne vale la pena Perché Stava benissimo E detto ciò Ci salutiamo E ricordatevi Se non l'avete già fatto Di iscrivervi al canale Perché presto Arriveranno Delle meravigliose Nuove avventure Quindi Iscrivetevi al canale E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Saluta Ciao